Anche a Barano, così come in tante località della nostra isola, è nata una Proloco. Ne parliamo con Caterina Iacono. Innanzitutto complimenti per questa scelta. Grazie. Allora, l'idea di dar vita ad una Proloco a Barano è venuta all'interno dell'Associazione delle Ragazze Baranesi anni 60, che come è noto operava già da diversi anni sul territorio. Però era giunto il momento di allargare gli orizzonti e abbiamo pensato che era giusto coinvolgere altri, interessarci di tutto il nostro territorio e quindi abbiamo dato vita a questa Proloco. È veramente una neonata perché solo a luglio abbiamo avuto la possibilità di essere iscritti all'elenco regionale delle Proloco, all'UMPLI e quindi adesso siamo pronti per partire e partiremo sabato con una manifestazione in cui abbiamo coinvolto la professoressa Patrizia di meglio che attraverso l'analisi di fiabe, miti, aneddoti popolari ci riporterà un po' a scoprire il modo di pensare, la morale popolare del nostro Paese. Il nostro invito è di chiedere l'aiuto a tutti perché adesso siamo un gruppo molto piccolo, ristretto, abbiamo tante idee, vogliamo valorizzare il nostro Paese, vogliamo promuovere le bellezze che ci sono a Barano e vogliamo aggregare le varie frazioni. Cercando in qualche modo magari anche di essere uno stimolo in più per chi amministra. Certamente, crediamo anche l'appoggio dell'amministrazione comunale, sicuramente, ma anche degli imprenditori presenti, i pochi imprenditori che ci sono, che sono legati al turismo, però Barano può tanto, ha delle bellezze naturali, ha le acque splendenti e quindi noi veramente siamo fiduciosi di accogliere e di crescere. Per adesso abbiamo tante idee e abbiamo tante speranze. Diamo di nuovo le coordinate però per sabato sera. Sabato in piazza San Rocco alle ore 8 ci sarà musica dal vivo, come ho detto già la professoressa Patrizia Di Meglio, ci illustrerà questo passaggio storico, ci saranno anche delle letture dirette interpretate e poi ci sarà il brindisi inaugurale di buon auspicio per la nostra Proloco. Grazie.